Stai cercando il modo giusto per fare delle piacevoli passeggiate in libertà? Sei arrivato nel posto giusto? Attraverso il mio metodo Guru Senza Fili scoprirai come cominciare a instaurare una relazione tale per cui il tuo cane potrà stare libero, libero di camminare insieme a te, vicino a te. Attraverso questo corso capiremo come muoverci nello spazio per poter far sì che il nostro cane ci capisca e ci comprenda quando è libero in passeggiata. Ti insegnerò ad introdurre i richiami nel modo corretto. Sì, ti parlo di richiami, non di richiamo, perché a seconda di che cosa tu vuoi fare con il cane ci sono diverse tipologie di richiami. Bene, sei pronto ad iniziare questa splendida avventura insieme al tuo Guru? Contattami, troverai il link qui sotto dove potrai inviarmi una mail o telefonarmi per fissare i tuoi primi 30 minuti gratuiti di consulenza per poterci conoscere e per migliorare e cambiare piccoli atteggiamenti che possono fare una grande differenza.